sexy addominali tonici e scolpiti sia eseguire centinaia di estenuanti flessioni del busto e delle gambe, betti sbagli. Se credi che l'unico modo per sviluppare il torace e scolpire spalle e braccia sia trascorrere ore in palestra a sollevare pesi, preparati ad avere una grossa sorpresa. E se sei convinto che solo con attrezzi ginnici ingombranti e costosi si possono ottenere ottimi risultati, allora rimarrai a bocca aperta. Ti presentiamo Revo Flex Extreme, La nuova straordinaria invenzione nel fitness dà la potenza ed efficacia garantite. Oggi c'è Revo Flex Extreme, l'ultima rivoluzione nell'evoluzione della ruota. La sua efficacia nello sviluppo muscolare si basa sulle proprietà del moto rotatorio. Niente è in grado di lavorare meglio sui muscoli addominali, ma è grazie alla tecnologia bidirezionale Power Assist che questo esercizio di tonificazione degli addominali è così efficace e alla portata di tutti. In fase di avanzamento le bande elastiche Power Assist aumentano la tensione, opponendo resistenza per un esercizio più intenso. Poi quando scivoli indietro la tensione creata si decresce, recuperando la posizione di partenza. Potrai muoverti lateralmente per lavorare su addominali laterali e obliqui ed eliminare così le maniglie dell'amore. Perderai fino a 2,5 kg e 15 cm in soli 6 giorni, risultato garantito. Con Revo Flex sarà più facile eseguire più serie di esercizi e la ginnastica diventerà meno faticosa e più divertente, motivandovi a continuare il programma per ottenere i risultati desiderati. Più ti alleni, più calorie grasso bruci. Revo Flex agisce sui muscoli addominali superiori, centrali e inferiori e al tempo stesso sulla zona del busto, esercitandovi costantemente una resistenza positiva e negativa che non li lascia mai a riposo. Questo rende la ginnastica con Revo Flex più efficace, fornendo migliori risultati in minor tempo rispetto alle attrezzature ginniche tradizionali. Ma non finisce qui. Con Revo Flex puoi rassodare i glutei, tonificare la parte interna ed esterna delle cosce e persino sviluppare torace, spalle, braccia e muscoli dorsali, tutto con lo stesso movimento. Saranno sufficienti 5 minuti al giorno per trasformare il tuo corpo da così a così, in soli 30 giorni. In men che non si dica cominceranno a evidenziarsi gli addominali e con un uso costante di Revo Flex Extreme il corpo dei tuoi sogni non ti sembrerà più così irraggiungibile. Un busto ben sviluppato non significa soltanto un bel aspetto, ma è anche la chiave per uno stile di vita sano e dinamico. E questo è quanto Revo Flex ti offre. Con Revo Flex incrementerai la massa muscolare del busto rafforzando stomaco e schiena e migliorando le tue performance nel golf. Addominali più sviluppati ti assicureranno più resistenza nel praticare il tennis e troverai l'energia e lo slancio necessari per partecipare attivamente a molte altre attività fisiche. Al contrario degli attrezzi ingombranti e costosi, si può riporre comodamente in piccoli spazi. La caratteristica unica di Revo Flex Extreme è la possibilità di regolare la resistenza delle bande Power Assist per un esercizio adeguato alla tua forma fisica e modificare l'intensità non appena ti senti pronto. Ma aspetta, riceverai anche questa pratica sacca da viaggio con la quale potrai comodamente trasportare il tuo Revo Flex ovunque tu vada. Inoltre includeremo il programma di esercizi avanzato per aiutarti a modellare, tonificare e rafforzare il tuo corpo. E gratis lo puscolo con il piano dietetico consigliato da Revo Flex, pieno di gustose e sane ricette. Avrà il Revo Flex Extreme con regolazione di resistenza e manuale per l'uso, la sacca da viaggio, il programma di esercizi e il piano dietetico. Tutto questo è possibile con Revo Flex Extreme.